Ciao, sono Silvia Nelba, un'associata di McKinsey. Mi occupo di sostenibilità e le tematiche ESG, Environment, Social e Governance, sono oggi sulla bocca di tutti. Tutti ne parlano, spesso ne fanno anche vanto. Essere sostenibili in un'impresa non significa, come molti pensano, focalizzarsi solo sulle tematiche ambientali. Di conseguenza intraprendere una strada verso una transizione green, ridurre gli impatti ambientali, consumare meno plastica. Essere ESG significa agire a 360 gradi, occuparsi degli aspetti di welfare dei dipendenti, pensare a un appropriato work-life balance dei propri dipendenti, così come agire in maniera etica e condurre un business sostenibile, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale e ambientale. Pensare alla qualità dei prodotti, pensare alla sicurezza dei prodotti e dei consumatori. Le tematiche ESG stanno sempre diventando più importanti al giorno d'oggi e questo per tre motivi principali. Uno, la regulation. Una regulation sempre più incalzante, basti pensare alla tassonomia dell'Unione Europea uscita nel dicembre del 2019, che per la prima volta definisce precisamente cos'è un investimento green. In secondo luogo, gli investitori. Gli investitori sono sempre più attenti alle tematiche di sostenibilità ambientale e sociale. Nel 2019 gli investimenti definiti sustainable hanno raggiunto i 31 trilioni di dollari, una cifra impensabile se si pensa anche a una crescita del 15% su base annua. Il 64% dei millennial e della gen Z ritiene che credere in un brand sostenibile sia fondamentale ed è disposto a rinunciare al proprio brand di fiducia qualora scoprisse che questo non rispetta i principi etici e di trasparenza su cui si è sempre fondato. Oggi con Beiros abbiamo incontrato quattro start-up operanti nel mondo della sostenibilità. Vedere la passione, la devozione, l'entusiasmo nei loro occhi è qualcosa che non può altro che riempirci di gioia e renderci orgogliosi delle start-up che operano nel nostro paese. Innovare si può, farlo sostenibilmente è ancora meglio.